Ciao a tutti dal salutatore, grandissima sorpresa, un video direttamente dalla scuola di calcio Giacomo Losi, Giacomo Losi per voi! Un saluto a tutti i romanisti e un abbraccio forte forte, sempre Forza Roma! Sempre Forza Roma, salutiamo il capitano Francesco Totti Francesco e anche Rossi e Alessandro Florenzi Perciò salutiamo in particolar modo loro, loro tre, Alessandro, Daniele e Francesco e tutti quanti gli altri tifosi della Roma Certo, un abbraccio a tutti Un abbraccio a tutti, direttamente da Giacomo Losi Ma un abbraccio giallorosso di quelli forti forti Ecco, io ti ringrazio, per me è una grande emozione e una sorpresa per te La manina del salutatore Ah, ecco, vedi? Ciao! Ciao a tutti! Dal salutatore, grandissimo Giacomo Losi Ciao! Ciao!